Vorrei partire dichiarando un po' cos'è il mio background, io sono stato, mi sono laureato come diceva prima il professore a Politecnico di Torino, ma la mia vita professionale è cominciata subito a fare del commerciale, oi me, non importa, non ho mai fatto l'ingegnere progettista, mai, mi sono laureato, avevo delle belle offerte anche perché allora, contrariamente a quello che succede oggi, quando uno si laureava aveva 20 offerte, doveva scegliere questa sì, questa no, e ne avevo tante belle offerte, volevo andare all'Olivetti, la mia scelta sarebbe stata quella, se non che mi offrirono di fare il venditore per la Motorola, che allora c'era il distributore, mi sono laureato in ingegneria, ma quando gli offro l'Olivetti? 120 mila lire al mese, io gli hanno dato 150, ha giudicato, quindi ho fatto una scelta profondamente tecnologica e ho cominciato la mia vita professionale come venditore di prodotti Motorola per la gente torinese del distributore italiano che era basato a Milano, da lì la mia vita si è sviluppata sulla carriera prima commerciale, poi manageriale, per cui praticamente è stata tutta una vita dedicata a un aspetto che non era direttamente tecnico, però non bisogna fare una confusione o un errore, il fatto che avesse avuto la formazione del Politecnico di Torino, come voi quella di Milano, ti lascia la traccia sempre e i miei colleghi, qualcuno è presente qua, sanno benissimo che nessuno mi poteva raccontare storie, avevo abbastanza capacità tecnica scientifica per capire di cosa si trattasse e quindi per decidere, pur non avendo mai fatto il progettista. L'impronta dalla mia chiacchierata sarà soprattutto un'impronta manageriale, che ha come background la tecnologia, ma sarà soprattutto manageriale. Bene, nella mia esperienza professionale, parlando degli ultimi decenni, io ho qualche secolo di esperienza professionale, mi limito agli ultimi decenni, negli ultimi decenni si sono sviluppati, secondo me nel mondo, quattro macro trend, quattro grande tendenze e questi quattro megatrends praticamente hanno influenzato lo sviluppo economico e sociale del mondo e continueranno a influenzarlo nel futuro. E questi macro megatrends che continuano hanno avuto un cambiamento di intensità o di orientamento a causa della crisi, ma comunque sono gli stessi avendo questa differenza. Quali sono questi megatrends? Ce ne sono altri certamente, poi in qualche settore c'è anche la sua capacità specifica, ma questi riguardano tutta l'economia in generale. E io vedo quattro grandi megatrends che si sono sviluppati, ripeto, da qualche decennio e che sono in atto con delle influenze differenti dovute alla crisi e che continueranno per i prossimi 20-30 anni, per cui bisogna essere preparati a fare i conti con questi megatrends per potersi confrontare nel mercato come futuri professionisti. Il primo è la globalizzazione, ormai la si dà per scontata. La globalizzazione nasce da una rivoluzione tecnologica, da una grande innovazione tecnologica, la digitalizzazione e il web. È questo che fa la globalizzazione, perché è stato proprio grazie alla digitalizzazione e al web che è stato possibile trasmettere una quantità illimitata praticamente di dati da una parte del mondo all'altra in tempo reale. Questo cambia tutto, cambia la possibilità, rende possibile trasferire con un click capitali, knowledge, lavorare in collaborazione a Singapore, a Ginevra, ad Agrati, a Catania allo stesso tempo, rende possibile dialogare con i clienti, quindi praticamente alla base della globalizzazione come premessa fondamentale c'è questa grande innovazione tecnologica che ha permesso proprio la globalizzazione. Poi ci sono state ovviamente delle lentezze politiche, quanto nell'89 cade il muro di Berlino, le remore politiche che esistevano si sono rimosse e la globalizzazione è esplosa e siamo in piena globalizzazione. Quindi questo è un primo megatrende col quale ci stiamo confrontando o col quale ci dovremo confrontare e dirò via via poi quali sono secondo me le cose che bisogna fare. La seconda grande megatrende che io penso che sia in atto, che mi pare che abbia influenzato è quello dell'accelerazione di tutti i processi operativi e della customizzazione dei prodotti e dei servizi. Anche questo nasce dalla rivoluzione tecnologica, nasce anche questo dal fatto che abbiamo a disposizione questa capacità di calcolo immensa, che abbiamo questa possibilità di comunicazione immensa, per cui il processo decisionale, il trasferimento di know-how, la capacità di eseguire le cose diventa molto più rapida. E questa innovazione continua. Ormai siamo entrati in un momento in cui si stanno costruendo piattaforme digitali portatili che rientranno possibili e già rendono abbastanza possibili avere accesso a qualsiasi informazione in qualsiasi punto del pianeta in quantità illimitate, per cui il processo sia di stile di vita che decisionale nel campo professionale diventa sempre più diverso. Viviamo in un mondo connesso, connesso dappertutto, capacità di decisioni rapide, capacità di cambiamento. Questo porta anche al fatto della customizzazione, cioè avendo la tecnologia, cambiato il processo decisionale, avendo la tecnologia e modificato la capacità manifatturiera, per cui è sempre più possibile, a costi ragionevoli, personalizzare i prodotti e i servizi, nasce e continua a crescere un processo di personalizzazione e customizzazione dei prodotti e dei processi. Quindi questo è il secondo grande megatrend che io vedo in atto e che accelera. E cioè, ripeto, il fatto di avere un'accelerazione di tutti i processi e la customizzazione dei prodotti e servizi. Il terzo grande megatrend che, ripeto, è nato da anni, ma che vive e continuerà a vivere per i prossimi vent'anni, trent'anni, è l'esplosione dell'Asia. L'Asia è esplosa dopo qualche secolo di dormiente, è cominciata a esplodere già negli anni settanta, ma era un pochino così, si facevano sotto le quattro tigri, vi ricordate le quattro tigri asiatiche? Poi è arrivato il dragone, poi è arrivato l'elefante. Ora c'è tutta l'Asia che è esplosa in modo formidabile, mi fermerò ancora un po' più di questo, e il fenomeno è destinato a condizionare la crescita mondiale per almeno i prossimi vent'anni. Il baricentro, il centro della crescita mondiale nei prossimi 20-30 anni sarà l'Asia e non c'è niente da fare, è irreversibile il fenomeno, almeno che non ci sia una guerra mondiale, che speriamo tutti che non ci sia, ma se non ci sono discontinuità di tipo catastrofico, questo è un trend importantissimo e bisogna tenerlo presente perché questo è un fatto con cui ci dobbiamo confrontare e vedremo le implicazioni. L'ultimo grande megatrend che io vedo ormai arrivare, che è arrivato ma che sta accelerando, è la responsabilità sociale dell'impresa. Negli anni 70 io ero in America, come ricordava il professore, e negli anni 70 si parlava di shareholders value e di stakeholders value. E la polemica era quasi una polemica sterile, perché chi sosteneva che gli stakeholders hanno importanza, sembrava qualcuno che diceva ma tu sei pagato per dare shareholders value. Stakeholders value ci pensa lo Stato e ci pensano gli altri. Io sostenevo già allora, era una piccola minoranza, che creando stakeholders value si amplifica lo shareholders value e che la responsabilità sociale dell'impresa non è un costo, ma è un beneficio, non è soltanto un fatto etico, ma è anche un fatto di ritorno economico magari intangibile all'inizio per l'impresa. Bene, mentre questo 40 anni fa era probabilmente la posizione di pochi, di una minoranza di managers, oggi sta diventando un grande fatto che non è soltanto opzionale e mandatore, perché le imprese che non saranno capaci di conciliare questo aspetto avranno meno capacità di competere e avranno una difficoltà ad avere successo. Quindi questi sono i 4 megatrend che ho visto emergere nella mia vita professionale negli ultimi 20 anni, 25 anni e che sono stati causati, i primi due almeno da rivoluzioni tecnologiche, gli altri sono stati causati da fenomeni piuttosto di natura sociale. La crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché non è finita la crisi, la crisi che stiamo vivendo ha influito su questi fenomeni in modo di accentuarli, non di ridurli. In che modo la crisi li ha accentuati? Beh, intanto ricordiamoci che questa è la crisi più forte del dopoguerra e io sono sicuro che se non avessimo avuto la capacità di coordinare gli interventi, coordinarlo forse anche inconsciamente, ma allo stesso tempo gli interventi di Cina, Stati Uniti, Europa e di tutto il mondo, ma soprattutto di alcuni grandi paesi, Cina e Stati Uniti in fronte a tutti e Stati Uniti in fronte a tutti. Prima per fermare il disastro finanziario che stava arrivando, secondo per stimolare l'economia e farla ripartire, se questo non fosse avvenuto noi avremmo avuto una depressione mondiale molto più severa di quella del 29. Avremo una crisi mondiale molto più severa di qualunque altra del dopoguerra, ma per fortuna abbiamo evitato finora, e non è ancora completamente fuori, la grande depressione, grazie al fatto che Cina, Stati Uniti e Europa hanno messo sul tavolo triliardi di dollari, non milioni o miliardi, ma triliardi di dollari, prima per salvare il sistema finanziario mondiale e poi per stimolare l'economia. Che cosa cambia con la crisi che, ripeto, è in atto ancora? Molto meno di come era un anno fa, segnali di ripresa ci sono, sono differenziati nel mondo in modo diverso, ma ancora non siamo fuori da questa crisi, basta ricordarsi che il raffreddore della Grecia ha gettato il panico in Europa e nel mondo e quindi siamo ancora lì, abbiamo una situazione di indebitamento paurosa, non solo dell'Europa ma anche degli Stati Uniti, quindi noi dobbiamo ancora fare molta azione. La crisi comporta alcune cose, primo, per quanto riguarda la globalizzazione, io non credo che la crisi arresterà la globalizzazione, ci saranno tentazioni protezionistiche, ma il fenomeno è irreversibile e quindi la globalizzazione continuerà, ma con un aspetto maggiore dei fatti che aveva, la competizione diventa molto più forte e siccome la crisi ha fatto finire completamente il periodo della easy money che c'era negli anni 90 e negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, l'accesso al credito sarà molto più difficile e più costoso per le imprese, avremo un monto in cui la competizione globale sarà caratterizzata da una maggiore difficoltà di accesso al credito, di un maggior costo del credito e di una maggiore competitività e vediamo che cosa significa poi. Questo è un primo impatto della crisi, per quanto riguarda l'accelerazione dei processi abbiamo un'accelerazione dell'innovazione, un'accelerazione di tutti i processi perché è una conseguenza del fatto che per essere competitivi bisogna innovare più rapidamente altrimenti non si riesce, per quanto riguarda l'esplosione dell'Asia accelera da pazzi, basta pensare che l'Europa ha un'enormità di debiti e una crescita bassissima, gli Stati Uniti hanno un'enormità di debiti e una crescita bassissima, l'Asia è in pieno boom e hanno delle riserve di triliardi di dollari, la Cina ha 2 triliardi di dollari di riserve e il problema che hanno loro è come frenare e rallentare l'economia che non vada molto sopra il 10% di crescita. Ero a Singapore poche settimane fa, riportarono i dati della crescita del primo trimestre, il primo trimestre è crescita del 15% sul primo trimestre del 2009, parlavo con un top executive lì e diceva sì, ma non vuol dire niente il primo trimestre era depresso, quindi per tutto l'anno se cresciamo del 7-8 è il massimo, poveretti, ad averne un pochino di così. Quindi loro hanno, tanto per dire lo Stato di Singapore è piccolino, ma è molto importante, io credo, per molte cose, è uno Stato che esiste soltanto da 55 anni e in 55 anni non hanno mai avuto un anno di deficit di bilancio, ogni anno sono inattivo e quindi le riserve si accumulano anziché avere i debiti che si accumulano. Quindi abbiamo un'Asia che cresce fortissimamente e che ha un sacco di soldi, un'Europa e gli Stati Uniti che crescono molto più lentamente e che hanno un sacco di debiti, questa centralità dell'Asia accelera da pazzi. E infine la responsabilità sociale, anche lì la crisi ha un impatto, perché la crisi economica e finanziaria sta comportando una cosa che molti governi stanno sottovalutando, non credo Obama, ma molti altri governi stanno sottovalutando. La spaccatura sociale sta aumentando in un modo pericolosissimo, sta diventando un grande problema, la disoccupazione, la sottooccupazione. In Italia abbiamo 8 milioni di persone che sono sotto la soglia della cosiddetta povertà assoluta, 8 milioni. La povertà assoluta in Italia si definisce, se non ricordo male, 600 Euro al mese per capita per un singolo o 1.100 Euro al mese per un nucleo familiare di 4. E se qualcuno di voi fa il conto di vedere come si vive con 600 Euro al mese si rende conto che è povertà assoluta. Questa gente sta male. Abbiamo quindi un fenomeno che non è soltanto italiano, in molti paesi dell'Occidente e negli Stati Uniti abbiamo questo problema dell'aumento della spaccatura sociale, la crisi o i nevi viene pagata di più dalle fasce più deboli, per cui il problema della responsabilità sociale dell'impresa diventa ancora più sentito e sarà spinto dal basso e sarà spinto dall'alto. Infatti i governi stanno spincendo per iniettare maggiore responsabilità sociale, le persone dell'impresa o i cittadini comuni stanno spincendo, per cui quell'altro quarto megatrente esce ancora più importante, più forte da questa crisi. Allora cosa devono fare le imprese per confrontarsi con questi quattro megatrente, campiati nel modo, come ho detto, molto forse amplificati dalla crisi che abbiamo vissuto e che ancora non è finita, ricordo che non è ancora finita. Abbiamo ancora una crescita molto modesta in Europa, l'Italia quest'anno crescerà tra lo 0,5 e l'1%, l'Europa crescerà su per giù lo stesso, l'anno scorso era calata parecchio, il 2008 era calata, per ritornare al livello del 2007 a questi livelli di crescita ci vorrebbero parecchi anni, quindi non si può dire che la crisi è finita, quanto siamo ancora ben soli, è finita la caduta, ma non siamo ancora tornati al punto di partenza, ce ne vuole, e la disoccupazione continua a salire. Allora, cosa bisogna fare? Globalizzazione, che cosa comporta per l'impresa la globalizzazione? Per me comporta alcuna cosa molto semplice, la prima è quella che è necessaria la dimensione di scala, per poter competere nel mondo globale, dove i clienti sono globali, i concorrenti sono globali, i mercati sono globali, piccolo e bello non è più bello, bisogna avere la dimensione di scala reale o virtuale, perché si può avere una dimensione di scala mediante aggregazioni, consorsi, forme varie, ma bisogna avere la dimensione di scala che permetta gli investimenti produttivi, la ricerca, il marketing, l'innovazione per poter competere. Quindi la dimensione di scala diventa una delle grandi priorità dell'impresa, se non si ha la dimensione di scala si rischia di restare emarginati. La seconda cosa che è importantissima è l'innovazione, lo è stata sempre, ma ora lo diventa ancora di più, in un mondo in cui c'è una competizione esacerbata, esasperata, fortissima, sia perché la crescita nei paesi occidentali sarà più lenta, il fatto che sia più forte in Asia non compensa il calo dei paesi occidentali, Stati Uniti, Europa e Giappone che non è occidentale, ma comunque dei paesi sviluppati, i quali ancora hanno i due terzi del PIL mondiale, quindi questo rallentamento rende l'economia molto più competitiva, la globalizzazione, la competitività esasperata impone che ci sia un'innovazione più accelerata, bisogna che ci sia un'innovazione più spinta, specialmente considerando il fatto che i paesi come il nostro, che sono in una situazione storicamente di sviluppo e che hanno una struttura di costi intrinsecamente più elevata della struttura dei costi dei paesi asiatici, non possono competere col costo del lavoro, devono competere grazie al valore aggiunto intellettuale, grazie a una produttività che aumenta sempre, questo si ottiene con l'innovazione. L'innovazione, che per usare un termine molto usato in confindustria, è l'innovazione a 360 gradi, cioè da un lato l'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, dall'altro lato l'innovazione dei processi operativi dell'impresa, che è il modo in cui l'impresa si struttura e si organizza per essere sempre più competitiva. E' questa doppia faccia dell'innovazione che consente all'impresa da un lato di avere prodotti a maggiore valore aggiunto, che quindi comandano sia una differenziazione che un valore aggiunto, che un margine migliore, e dall'altro una produttività crescente. Quindi dimensione di scala e competitività esagerata che impone l'innovazione. Un altro aspetto che comporta la globalizzazione è il fatto che l'impresa diventa sempre più, non ha più un posto singolo. La differenza che c'era una volta tra le società internazionali e ora che c'è con le società globali, o addirittura come dice l'Insead, metanazionali, è che prima c'era un'impresa locale che esportava nel mondo. Ora c'è l'impresa che ha certamente un centro decisionale, ma che è localizzata ovunque, sia per capitalizzare sulle opportunità dei mercati, sia per mediare sui costi. Quindi non bisogna avere più tabù sull'aspetto della delocalizzazione, perché si faccia una delocalizzazione intelligente, cosa che noi in ST abbiamo fatto, per i miei 25 anni, abbiamo fatto la delocalizzazione intelligente. Io per 25 anni, dopo la prima ristrutturazione iniziale, ho creato posti di lavoro. Noi, infatti non io, io ero soltanto il direttore d'orchestra, ma eravamo tutta l'azienda che lavorava molto bene e continua a lavorare molto bene come squadra, abbiamo fatto una politica di delocalizzazione intelligente. Quando un'attività manifatturiera, per esempio, arriva a un grado di maturità, che non è più possibile aumentare la competitività attraverso continui miglioramenti della produttività o l'innovazione, perché il prodotto è mutuo, lo si delocalizza, lo si porta dove si può allungare la vita di quel prodotto e continuare a far rifare profitti. Questi si rinvestono nel paese di origine per investire in ricerca e in prodotti di punta. In questo modo siamo riusciti per 25 anni a creare posti di lavoro anni dopo anno in Italia, in Francia e in Europa, così come in America e poi anche nei paesi in via di sviluppo, in Cina, in Asia e in vari posti. Quindi la delocalizzazione deve essere intelligente, non ci deve essere assolutamente nessuna preclusione mondiale, perché è una causa di creazione di posti di lavoro se fatta in modo intelligente e non di distruzione di posti di lavoro. L'altro aspetto di questa internazionalizzazione, di questo nuovo modo di competere globalmente è che si va fuori per conquistare i mercati, non soltanto per i costi. Uno pensa sempre, porto lì, ma bisogna conquistare i mercati. Io non ricordo esattamente le cifre, ma credo che l'ST, un'azienda da 11-12 miliardi di dollari fatturato grossomodo quest'anno, in Italia fatturerà 300-400 milioni, 500 milioni, non so quanto sono le cifre, mentre in Asia fatturerà 5 miliardi. Quindi non sono le 10 mila persone che abbiamo lì, che tolgono posti di lavoro qua, sono quelle 10 mila persone che sono lì, che mi consentono di diventare lì, che mantengono le 11 mila persone che abbiamo in Italia, che mi permettono di fare ricerca, produzione di punte e non abbiamo un mercato di sbocco in Italia, ma usiamo di quei mercati. Quindi sono queste le sfide della globalizzazione che bisogna tenere presente. Dimensione di scala, accelerazione dell'innovazione, delocalizzazione intelligente. Bisogna usare questi strumenti in modo da poter competere in questo momento di globalizzazione. Un altro elemento che volevo parlare è il secondo, l'accelerazione dei processi e la customizzazione. E qui che cosa vuol dire? Qui vuol dire che l'azienda si deve organizzare in modo da accelerare il processo decisionale e il processo esecutivo. Le decisioni devono essere veloci. E qui c'è un contrasto. L'azienda piccola per sua natura è agile, decide rapidamente ed esegue rapidamente. L'azienda grande invece ha il vantaggio della dimensione di scala, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di ricerca, innovazione, capitali, però è lenta normalmente, perché ci sono diversi livelli organizzativi, ci sono diversi processi di normale struttura interna. Come si fa a risolvere questo problema? Si fa a risolvere questo problema in due modi. L'uno è la cultura, e la cultura mi è piaciuta, vorrei sapere che è stata la persona che ha fatto quella bellissima immagine, cioè di guidare una porta aerea, una nave grossa, come si guida un motoscafo. Quindi è esattamente quello che bisogna fare, avere la dimensione di scala ma reagire molto velocemente. E lì bisogna avere un'organizzazione in cui da un lato c'è la cultura, la cultura della delega e del controllo, la cultura della fiducia, credere nelle persone, nella responsabilizzazione. E dall'altro lato c'è una struttura organizzativa che io amo chiamare molecolare, una specie di estrapolazione teorica, ma che sia concepita in modo tale che ogni azienda si strutturi come un insieme di tante micro aziende virtuali, cioè tanti gruppi operativi, ognuno dei quali ha la massima autonomia possibile decisionale, che viene integrato nella macro organizzazione che è l'azienda. In questo modo si conciliano le due cose, l'agilità della piccola azienda con la massa critica della grande azienda. Questa struttura molecolare, chiamata così per dire che è un corpo, un grande organismo, ma fatto da tante, non molecolare, cellulare, scusatemi, fatto da tante cellule, ognuna la quale alla sua vita si riproduce, eccetera, è un'immagine non appropriata, ma che comunque vuol dire una serie di micro imprese virtuali che sono messe insieme nella macro impresa. Ci aveva provato molto bene e c'era riuscita fino a un certo punto la bibina negli anni Ottanta, ma poi era esplosa questa cosa, era implosa, mi pare che c'erano più alcuni migliaia di P&R centers abbastanza autonomi e il segreto perché abbia successo è che ci sia un collante che tiene insieme tutte queste micro imprese virtuali, nella macro impresa reale. E questo collante è fatto essenzialmente da tre grandi strumenti di cui l'impresa si deve dotare. Il primo strumento è quello di avere un sistema informativo e una cultura della comunicazione che consente di avere accesso a informazioni senza avere layer di supervisione che non finiscono più. Quindi c'è un'autonomia operativa, ma con lo schiacciando un tasto si può vedere, sentendo il telefono si può sentire, senza avere 14 persone che fanno rapporti, 15 persone che fanno supervisione. Quindi una cultura e strumenti informativi capaci di avere l'informazione in tempo reale e avere la cultura della comunicazione. La seconda cosa è quella di avere la politica del policy deployment, come si dice nel TQM, cioè essere in grado di fare un deployment degli obiettivi, di modo che gli obiettivi della macro corporation scendono a pioggia, via via deployed, su tutte le cosiddette micro corporation virtuali, in modo che quando una micro corporation, cioè un reparto, un gruppo, aggiunge per raggiungere i suoi obiettivi automaticamente, questi obiettivi sono in sintonia con gli obiettivi della macro corporation e non sono che uno tira da una parte e uno tira dall'altra. E la terza cosa che ci vuole è la cultura aziantale, che è il vero collante, una cultura aziantale in cui tutti i dipendenti si riconoscono che sia veramente il DNA dell'impresa. che cos'è la cultura aziantale, che tutti parlano di cultura aziantale. Intanto la si definisce, la si può definire, ma poi la si deve vivere, perché se non la si vive e se non la si respira, come per esempio nella mia esperienza in ST si vive e si respira, o si viveva, io non ci sono più ma credo che non è cambiato nulla, non c'è questa cultura aziantale. Per esempio a me piaceva quantificarla con tre linee, la cultura aziantale della società, integrità, TQM centrato sulle persone in ricerca dell'eccellenza e responsabilità sociale. Questa era la cultura. Se tutti gli individui si riconoscono in questa cultura c'è un collante che tiene insieme l'impresa e poi ognuno di questi può essere declinato nelle diverse aspetti. Quindi questo secondo mega 30 ci si confronta con una cultura della rapidità della decisione, della rapidità dell'esecuzione e con una struttura organizzativa che rende pratico questo. L'esplosione dell'Asia. L'esplosione dell'Asia è un fatto, non è una questione ci piace o non ci piace, è così. E sarà così per i prossimi 20 anni, 30 anni. Noi abbiamo già oggi in Asia tra Cina e India soltanto si stima che ci sono 400 milioni di persone con un potere di acquisto misurato a parità di potere di acquisto uguale a quello europeo. C'è già un'Europa dentro Cina e India da un punto di vista di mercato. Conquistare questi mercati vuol dire conquistare un'altra Europa. Non è quindi soltanto i costi, ma è anche il mercato enorme. Ma mentre l'Europa è stagnante, ogni anno lì sono diecine di milioni di persone che si aggiungono a questa schiera. D'altro lato abbiamo ancora centinaia e centinaia di milioni di persone morte di fame, per cui la riserva immensa che c'è di lavoro a basso costo e di potenziale lavoro intellettuale, perché stanno spendendo un sacco in ricerca, innovazione, università, si laureano in Cina più ingegneri che in Europa e negli Stati Uniti messi insieme ogni anno. Una cosa impressionante, lo stesso in India. Loro stanno creando il futuro sulle base corrette. Quindi c'è un mercato enorme che non si può ignorare. Quindi la prima ragione è andare lì a conquistare questi mercati. E la seconda ragione è mediare sui costi, con quella dell'ocalizzazione intelligente di cui parlavo. Quindi l'Asia non si può ignorare. Qualunque società voglia essere un attore significativo a livello mondiale, se non ha una politica precisa per avere successo in Asia, non potrà avere successo nell'economia globale. Quanto vedo una bella società che ha il 90% del suo fatturato tra Europa e Stati Uniti e il 10% in Asia, o Asia e l'America Latina e Africa, che purtroppo per ora conta poco, c'è qualcosa che non vale. Bisogna fare immediatamente una politica che cambi questa struttura. E nel caso dell'ST lo è stata da parecchi anni ed è stata una delle cose che ci ha aiutato a crescere. Accelera un momentino la responsabilità sociale. La responsabilità sociale, ripeto, è qualcosa che non va fatta soltanto perché si è illuminati, va fatta perché conviene. La responsabilità sociale conviene perché ci si guadagna. Può essere non solo, ci sono tre ragioni. La prima ragione è etica, l'impresa ha una responsabilità etica. La seconda ragione è motivazionale dei giovani. Il futuro di un'impresa dipende dal suo capitale umano, che è sempre più prezioso anche in Italia, dove purtroppo non c'è molta opportunità, ma da dove ci sono i giovani sono la base del futuro. E i giovani sono più sensibili, le nuove generazioni, le vecchie, a questa funzione dell'impresa. Per cui attirare, trattenere e motivare i migliori talenti è più facile se un'azienda ha una responsabilità sociale in cui crede e che pratica, non soltanto che lo mette nei suoi libretti. E infine ci si guadagna. L'esempio più chiaro che ci si guadagna è di quell'aspetto di responsabilità sociale che è la responsabilità ambientale. La ST ne ha fatto uno dei suoi pilastri di competitività, guadagnando un sacco di soldi. Nell'arco di 11 anni, dal 1994 al 2005, la ST, grazie alla politica ambientale, come risparmi ha risparmiato 900 milioni, ne ha investito 300 e ci ha guadagnato 600 milioni netti. Quindi ci si guadagna. Ci si guadagna anche laddove non si vede, perché è imponterabile quanto vale la motivazione della gente. Per esempio la ST come responsabilità sociale ha tre grandi pilastri su cui si impernia la responsabilità sociale dell'azienda. Il primo è quello di aver aderito immediatamente, io lo firmai immediatamente, il Global Compact di Kofi Annan. Quando uscì questo codice di adesione di comportamento, io fui tra i primissimi nel mondo o in Europa a firmarlo, tant'è che un anno dopo la firma, Chirac convocò all'Eliseo l'ST estento italo-francese, io in Francia ero francese, l'ST è francese in Italia italiana e io sono italiano. Tra i CEO che convocò c'ero anch'io, convocò i top 20 CEO, Chirac e Kofi Annan insieme, per darci una lavata di capo e lì c'erano 20 top CEO di cui solo 7 in un anno avevano firmato il Global Compact e i primi eravamo stati noi, per cui l'ST veniva additata a modello di quello che… siamo stati i primi, perché? Perché quello che facevamo era già in quel codice morale, c'era nulla di nuovo per noi, era una cosa che stavamo facendo. Devo dire che la sera erano 20 che avevamo firmato e l'indomani erano una cinquantina in Francia, c'è un certo impatto del Presidente che gli fa la strigliata. Comunque prima il Global Compact, l'adesione a questi principi di comportamento etico, il secondo è la neutralità ambientale, l'ST ha il goal che è un asintoto che non si raggiungerà mai, ma che tenda alla neutralità ambientale. L'obiettivo è quello di lasciare ai nostri figli lo stesso patrimonio ambientale che abbiamo trovato, come faceva il contadino quando io ero piccolo, la campagna la coltivava, ci manciava e poi la lasciava suo figlio e la campagna era la stessa. Quindi cercare di avere un pianeta che sia un pianeta non sfruttato perché è ereditato, ma perché non è un'immagine mia, è stato ricevuto in prestito dai propri figli e bisogna ritornarlo intanto ai propri figli. E la terza cosa è quella di destinare una quota dei profitti ai progetti di responsabilità sociale. L'ST ha fatto una fondazione chiamata ST Foundation che ha come obiettivo quello di contribuire a chiudere il digital divide nel mondo. Quindi responsabilità sociale che si misura, che si confronta con delle cose concrete e che ha un ritorno, certamente non tangibile in qualche caso, ma certamente che c'è. Questi sono i grandi megatrend con i quali voi giovani vi dovete confrontare e che dovete certamente mettere a profitto perché nella crisi, attenzione ci sono enormi opportunità, nella crisi ci sono aziende capaci e aziende non capaci. Le aziende capaci sono molto più avvantaggiate e possono avere un vantaggio. Una cosa che io dico ai miei giovani colleghi nelle imprese, se c'è la crisi è bene, prima niente panico, secondo vai a fare un po' di shopping, comprati quelli deboli e terzo guarda il conto economico per quanto riguarda la cassa, perché la cassa è una cosa molto importante durante la crisi e durante le difficoltà finanziarie. Ma la crisi può presentare momenti di opportunità per i migliori, basta essere migliori, ci vuole niente, basta essere tra i migliori, io dico se uno vuole avere successo basta che sia sempre un po' meglio dei suoi concorrenti, non è una cosa tanto difficile. Bene, due o tre commenti, che cosa devono fare le imprese, l'abbiamo detto, cosa dovete fare voi giovani, che cosa devono fare i paesi, perché siamo in una competizione globale anche per attirare cervelle capitali, i paesi si confrontano per attirare cervelle capitali, ci sono quattro cose fondamentali che qualunque paese moderno deve fare e sta facendo in molti, chi più chi meno, per attirare e trattenere capitali. La prima cosa fondamentale è quella di avere un contesto burocratico e normativo che sia veloce, trasparente e garantisca la certezza del diritto. Se questo non c'è i capitali non vengono e quelli che ci sono se ne vanno, se abbiamo un contesto burocratico e normativo che ci mette due anni per prendere una decisione, che dopo ci sono decisioni politiche che cambiano, che non è prevedibile per il futuro vicino, non fra dieci anni, cosa succede all'anno 21 o fra due anni, non si è in grado di attirare e mantenere cervelle capitali. La seconda cosa è quella di puntare sul capitale umano, cosa che stanno facendo in modo incredibilmente accelerato in Cina e in India, incredibilmente, il capitale umano è il grande patrimonio di un paese, puntando sul capitale umano si punta sul futuro, capitale umano vuol dire scuola, università, formazione. La terza cosa è favorire un contesto di ricerca e innovazione privata, a parte quella pubblica, ma favorire quella privata, in modo che le imprese trovano un ambiente fertile, che dipende anche dal capitale umano, ma dipende anche da una politica che favorisca la ricerca e l'innovazione. E la quarta cosa è quella di fare infrastrutture materiali immateriali, per cui si possa avere un ambiente competitivo. I paesi che riescono a fare queste cose, poi ci sono altri fattori, c'è il costo del lavoro, ma questi sono fondamentali, se non ci sono questi, un paese è destinato al declino, da un punto di vista economico, da un punto di vista commerciale. Ed è impressionante quello che stanno facendo i paesi emergenti, ci sta provando molto bene buona parte dell'Europa, ci stanno provando gli Stati Uniti, mi pare che noi siamo in ritardo, purtroppo mi pare che l'Italia non ha la stessa intensità di attenzione in questo campo. Io sono impressionato di Singapore, Singapore è classificato come il primo paese al mondo nel campo della trasparenza e della competitività. Uno deve fare una cosa, si decide in questione di settimane, non di mese, sa esattamente quello che gli aspetta e avrà quello e sa che fra due anni, fra cinque anni il contesto non cambia o se cambia c'è un tempo enorme, mi impressionava recentemente, ero a Singapore con un alto funzionario, loro hanno una pianificazione del territorio a cinquant'anni, è piccola l'isola, è più facile, la pianificazione del territorio si fa a cinquant'anni e si rivede di cinque anni in cinque anni. Dove saremo fra cinquant'anni? Ah ecco, allora bisogna fare queste cose, ogni cinque anni si aggiorna, è un po' diversa come mentalità, bisogna avere queste cose, se non si hanno queste cose si rischia il declino, perché la competitività dei paesi nel contesto globale dipende proprio da questo, contesto normativo e contesto burocratico che consenta rapidità, prevedibilità, trasparenza e certezza, capitale umano, ricerca e innovazione, infrastrutture materiali e immateriali, banda larga. Singapore nel 2012 sarà tutta connessa a un giga, è piccolissima l'isola, ma la Cina non nel 2012 ma nel 2015 avrà le prime cinquanta città, che vuol dire una popolazione contro l'Europa, connesse a un giga, le prime cinquanta città cinesi nel 2015 saranno tutte connesse a un giga. Quanto sarà l'Europa? Quanto sarà l'Italia? Boh, qui parliamo di banda larga, ci fermiamo a cento, ma non so quanto. Quindi bisogna che ci si svegli a queste cose, altrimenti non sarà competitivo. Questi sono i contesti in cui dobbiamo operare, questi i contesti in cui… ma attenzione, qualunque sia quello che fa il paese, qualunque sia l'ambiente, il futuro manager non ha scuse, deve fare le cose che deve fare. Deve fare l'innovazione, deve fare… praticamente usavo dire in azienda, l'immagine che vedevamo era… l'azienda si muove su tre asse continuamente. Uno è relentless cost reduction, l'altro è disruptive innovation, l'altro è corporate culture and values. Se uno riesce a muoversi continuamente in queste tre direzioni, avere sempre un'attenzione dei costi che vanno migliorati attraverso una filosofia della total quality management e della produttività. Un'innovazione che può essere anche un'innovazione, diciamo così, graduale, ma deve essere anche disruptive e infine la cultura della corporation che viene tutte unite, si può riuscire a vincere in qualunque contesto e i giovani devono cambiare anche il contesto. Quindi la vostra sfida è non avere successo soltanto voi e le vostre imprese, ma fare cambiare anche il Paese e l'Europa per essere competitivo. Mi pare che ho parlato abbastanza, chiacchieriamo insieme.